Ti sembra questa l'ora di muoverti? A mezzogiorno? Eh va bene! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno Orietta Channel! Meglio tardi che mai! Meglio tardi che tai! Buongiorno! Orietta Channel! Il channel più guardato da chi lo guarda! È preferito da chi lo preferisce! Buongiorno! Buongiorno! Un saluto da? Da! Un saluto da dove sei? La cittadina dei mulini! Buongiorno! Sono... Tu sei... Tu Orietta! Sei a... Dove sei arrivata col tuo camper? Oggi sei arrivata a... Ma non è che fa finta e non sta recitando! Siamo in montagna! Sì! Il paese si chiama! Siamo in un paese dei mulini dove ci sono le cascattine! Non quelle grandi come quelle di ieri! Quindi sei a... Eh non lo so! Sei dimenticata! Tre minuti! Se l'hai già ascoltato! Ma dillo tu! Sei a... Rastocche! Eh? Rastocche! Rastocche! Che? Rastocche che si dica così! Rastocche! 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 Ma non è che finge che fa l'attrice! È proprio così! È buona la prima! È buona la prima! Sì! È basta! Sono... Genuina! Sì! Smemorata! Genuina! Smemorata! La Orietta! Oggi vi accompagnerà ad ammirare Rastocche con le sue case e i suoi mulini! Siamo in... Dove siamo in? Dove siamo in? In Croazia! In Croazia! Ma stai in? Vicino al parco di... Rastocche! Bravissima! Il parlo d'essere a scuola con i bambini! Stavo dicendo! Ma infatti! Completa le caselline! Ma quando parlo io stai zitta tu! Quando stai zitta tu parlo io! È chiaro? Allora ripeto! Quando parlo io tu stai... Zitta! E quando tu stai zitta parlo io! Ma perché? Non posso parlare! Mi impedisci di parlare! Dove siamo a? Rastocche! Andiamo? Andiamo? Abbiamo già cominciato male stamattina! Abbiamo già cominciato malissimo! Ma sai che stamattina volevo rincorrere i neuroni, no? E non sono riuscita a prenderli! Ma che? Quindi sono indormensati! Figurati! I neuroni! No no! Sono scappati via! Mi hanno lasciato da sola! Da sola ti hanno lasciato povera! Non sono addormentati sai! Ma perché peggiori così la tua situazione? Perché? Perché? La domanda è perché? Perché sono auto ironica! Sì! Ciao! Buongiorno! Ciao! Ma la canoa ce la compriamo? Sì! Ce la compriamo la canoa! Guarda! Buongiorno! Buongiorno! Ed ecco il lato B dalla parte opposta! Allora prossimamente... Canoa anche per noi! Sì! Canoa anche per noi prossimamente! Va bene! Prossimamente su questo schermo! Rietachuanel in canoa! In canoa! Andiamo va! Boh! Uno è cascato giù per la cascata! D'altra parte se si chiama cascata ci sarà motivo! Gli altri due stanno temporeggiando! Che fanno? Sì! E' arrivato! Dai 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 che va! Dai! Anche gli altri adesso si incoraggiano! Vedi? Si stima e si incoraggia! Questo qua non so! Fa un'altra strada! No no! Si giro qua! Eeeh... Dai dai! Oh Rieta! Rastoke! Eccola qui! Hai caldo? Oh quanto caldo! Una giornata incredibile oggi! Caldissimo! E fortuna mi da un senso di freschezza questa cascata! Sai! Guarda dov'è il localino là! Sì! Vada! Bello vero? Ciamo vati! Sì! Eccola! Sì! Questa è così! Perchiamo questo! Sì! Che bene? Che tue le due giornate! Allora, ti piace qui? È caratteristico, molto bello. Ti gusta? Bello, bello, bello. Però non vedo l'ora di andare al mare, posso dirtelo? È tanto caldo. Stendermi la sole, magari in leggera brezza. Andiamo, andiamo a prendere la pincana. Siamo se fai la brava. Eh? Se fai la brava. Sì, dai. Ma dove vai? Bellezza in bicicletta. Ma dove vai? Pedali senza fretta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Rieta. In Romina dove siamo qua? Ma come? Ma ti abbiamo lasciato. Ti abbiamo lasciato ieri in mezzo alle montagne. Sì. Eh, con gli orsi. Ti hanno mangiato gli orsi. No, no. I lupi. Sono scappata via comunque perché avevo voglia di mare. Avevi voglia di mare? Sì, siamo arrivati a Rovigno. A Rovigno. Rovigno, Rovigno. Senti, adesso potete fare caldo. Tiene il calore subito se sboglia. Vedi che giornata bellissima. Hai visto l'acqua? Wow, wow. E poi qua c'è un campeggio meraviglioso. Enorme che non finisce più. E c'è di tutto all'interno. Allora ci porti oggi a fare un bel giro con la bicicletta sulla pista che va dai campeggi di Rovigno fino alla città. E devo arrivare al paese di Rovigno.